per forza Grazie a tutti. 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 Quello con la 500 vecchia. Esatto. Grazie a tutti. 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 Pianone. 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 Ma poverino Sì, facciamo leccato bene Ecco Ma tutto è con un foro, suonato? Eh sì, l'anessa C'è un po' dritto, non lo so Sì Il K10? Abbiamo visto anche lui, sì Sì Euro perché sto andando col mozzo Fanculo E' un po' dritto E' un po' dritto Non si sa mai, eh? E' un po' dritto Che è? Vabbè, ma che c'è La paleno La paleno E' un po' dritto E' un po' dritto Curva davanti agli alberi Sentito una legna Buon, fermo Non ha spinto qua dentro Sì, qua no La questione l'hanno testa Ma cos'è? Ma cos'è? E' un po' dritto Ma una ruota Ma una ruota Buon bravo E' un po' dritto E' un po' dritto E' un po' dritto 5-2 non so se la prima zera cos'è non tira più io ho sentito sia bene che male ma se è un imbarotto per qualche modo bravo bravo cos'è è quella che doveva passare prima la prima del 5.6 e la seconda vieni a far maniera che non faccia dio fae dietro questo è la seconda ah e beh va a scoccomando va bene allora manda di su e parti già su con i recuperi